Benvenuti a Bologna, la dotta, la rossa, la grassa. Scoprite una città che vi conquisterà il cuore. Bologna, la dotta, la rossa, la grassa. Tre aggettivi che racchiudono la sua anima. La dotta per la sua antica università, fucina di sapere da secoli. La rossa per il colore dei suoi mattoni che al tramonto si accendono di sfumature fiabesche. La grassa per la sua tradizione culinaria, ricca di sapori genuini e invitanti. Bologna è una città da vivere a passo lento, perdendosi tra i suoi vicoli medievali, sostando sotto i suoi famosi portici un abbraccio di pietra che vi protegge dal sole e dalla pioggia, gustando le specialità locali nelle sue tipiche osterie. Preparatevi a respirare un'atmosfera unica, fatta di storia, cultura e passione. Benvenuti a Bologna, una città che vi lascerà un segno indelebile nel cuore. Piazza Maggiore. Eccoci arrivati, nel cuore pulsante di Bologna. Immaginate una piazza grandiosa, come un palcoscenico a cielo aperto, circondata da palazzi maestosi. Un palcoscenico di vita, che si anima ad ogni ora del giorno e della notte. Un flusso continuo di persone, storie e emozioni. Osservate la basilica di San Petronio, imponente e incompiuta, con la sua facciata in marmo bianco e rosa. Non perdete la fontana di Nettuno, simbolo della città, con la sua statua bronzea che sembra emergere dalle acque. Sedetevi sui gradini della piazza. Chiudete gli occhi e ascoltate il brusio della gente. La musica degli artisti di strada. Lasciamoci alle spalle Piazza Maggiore e inoltriamoci nel dedalo di vie del centro storico, un labirinto di storia e bellezza. Ammirate i famosi portici di Bologna, un'opera architettonica unica al mondo. Chilometri di arcate che creano un suggestivo salotto a cielo aperto. I portici sono una risorsa per la città, simbolo di accoglienza e condivisione. Proteggono dal sole d'estate e dalla pioggia d'inverno, consentendo di passeggiare in ogni stagione. Sotto i portici, botteghe storiche boutique, caffè e ristoranti deliziano i visitatori. In lontananza, ecco apparire due torri che svettano verso il cielo, come guardiani silenziosi. Sono le torri Asinelli e Garisenda, simbolo indiscusso di Bologna. La torre degli Asinelli, con i suoi 97 metri di altezza, è la più alta della città. Salite i suoi 498 gradini e godetevi una vista mozzafiato su Bologna. Accanto ad essa, la torre Garisenda, più bassa e pendente, sembra quasi sul punto di crollare. Un simbolo, che incarna lo spirito di Bologna. Macabro e affascinante. Preparate i vostri sensi ad un'esplosione di sapori e colori. Eccoci arrivati al mercato di mezzo, il cuore gastronomico di Bologna. Un paradiso per i buon gustai, un tripudio di profumi, colori e sapori. Passeggiate tra i banchi dei produttori locali e lasciatevi tentare dai profumi invitanti, formaggi stagionati, come il parmigiano reggiano, salumi prelibati, come il prosciutto di Parma, pasta fresca, pane fragrante, frutta e verdura di stagione. Il mercato di mezzo è un'esperienza sensoriale unica, che vi farà scoprire la vera essenza della cucina bolognese. Dalla città, il nostro sguardo si posa su una collina che domina Bologna, è il Colle della Guardia, dove sorge il Santuario della Madonna, di San Luca Immaginate, di percorrere il portico più lungo del mondo, che si snoda per quasi 4 chilometri, collegando il centro città al santuario, un cammino di fede che si snoda tra le colline godendo di una vista spettacolare, sulla città, con la sua facciata barocca e la sua cupola maestosa, un gioiello di architettura, un'immagine sacra che infonde pace e serenità. Amici, non possiamo parlare di Bologna senza menzionare la sua cucina, una vera e propria esplosione di gusto, preparati con ingredienti genuini e con la passione che solo la tradizione culinaria bolognese sa trasmettere. Assaggiate i tortellini in brodo, un piatto che scalda il cuore e delizia il palato. Gustate le tagliatelle al ragù, con la loro sfoglia sottile e il sugo denso e saporito, la cucina bolognese è un viaggio nel gusto, un trionfo di sapori che vi conquisterà. Bologna non è solo storia, arte e gastronomia, ma anche musica e cultura, una città vivace e dinamica. La città è animata da un fermento culturale, con teatri, musei, gallerie d'arte e locali musicali. Lasciatevi trasportare dalla musica dal vivo, nei numerosi locali del centro storico. Nonostante la sua ricchezza storica e culturale, Bologna è una città a misura d'uomo, dove è piacevole passeggiare, fare shopping e godersi la vita all'aria aperta, un connubio perfetto tra tradizione e modernità. Immaginate di perdervi tra i vicoli del centro storico, scoprendo angoli nascosti e botteghe artigiane, dove il tempo sembra essersi fermato. Concedetevi una pausa relax nei giardini Margherita, il polmone verde della città, un'oasi di pace, e godetevi una passeggiata tra alberi secolari e laghetti romantici. Un'esperienza rigenerante. Fate un giro in bicicletta lungo i canali di Bologna, scoprendo scorci suggestivi e angoli pittoreschi, un modo diverso di vivere la città. Bologna è una città che sa conquistarvi con la sua autenticità e la sua atmosfera rilassata. Un luogo dove sentirsi a casa, lontano dal caos delle grandi metropoli. Amici di Italy Travel, il nostro viaggio a Bologna volge al termine, ma il ricordo di questa città rimarrà impresso nei vostri cuori. Abbiamo scoperto insieme i tesori di questa città straordinaria, la sua storia millenaria, la sua bellezza architettonica, la sua tradizione culinaria e il suo fermento culturale. Un patrimonio unico al mondo. Bologna è una città che vi conquisterà il cuore, con la sua autenticità, la sua vitalità e la sua capacità di farvi sentire a casa. Un luogo dove si respira un'aria diversa. Un luogo dove il passato e il presente si fondono armoniosamente, creando un'atmosfera unica e indimenticabile. Un'esperienza che vi arricchirà. Non aspettate oltre. Bologna vi aspetta a braccia aperte. Venite a scoprire di persona la magia di questa città straordinaria, a perdervi tra i suoi vicoli, a gustare i suoi sapori e a respirare la sua atmosfera unica. Un'esperienza che non dimenticherete.